Musica In questo mese di maggio 2011 sono in India insieme a Re De Rosse Giuseppe, uno dei benefattori che assiste a due bambini. Lui ha accettato di aiutarmi e accompagnarmi durante questo fettico viaggio. Adesso siamo nel territorio di Klientera, una regione collinosa. È difficile visitare i bambini perché una famiglia vive in una collina, l'altra vive sull'altra collina, l'altra vive nella vallata. È difficile. Vorrei ringraziare Giuseppe che ha accettato di accompagnarmi. È difficile, molto difficile. Durante questo viaggio anche il parco di Klientera, reverendo il padre Joseph Villeganton si è aiutato molto. Anche la comunità dei suori, in questo parte, si è accompagnata, ha dato una mano. Perché loro apprezzano il buon lavoro che stiamo facendo in questo parte del mondo. Perché le famiglie che aiutiamo sono veramente bisognose. Grazie a tutti voi che collaborate con noi. Comprendete le difficoltà della gente. Sono veramente poveri. Hanno bisogno di aiuto. Aiutiamoli. Vi chiedo la vostra comprensione e la vostra benevolenza verso questa gente. Grazie. Il Signore vi bendica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.